Caro sindaco Marino e maggioranza, vorrei tanto sapere perché non siate mancati all'assemblea pubblica che aveva indotto tutti gli operatori Roma Multiservizi. Solo voi della maggioranza, se non c'eravate, mentre l'opposizione si è presentata. Non avete la faccia per fare questo? Che cosa pensate? Che noi non siamo degni di avere delle risposte? Caro Marino, perché fare una gara a cinque lotti in cui tu spezzetti il servizio e alla fine il comune di Roma deve pagare di più? Perché non affidare anche con la gara a doppio oggetto i servizi a Roma Multiservizi di cui è rimasta quasi su tutta Roma l'unica società pulita dopo mafia capitale? Pulita e oltretutto anche formata come servizio. Un'altra cosa, vorrei sapere sia dalla maggioranza che dal sindaco Marino, che fine faremo? Saranno tutti rispettati i 3.000 posti di lavoro? Voi state giocando con la vita delle persone, degli operai che prendono dalle 400 alle 600 euro al mese, non prendono quei bei soldi che entrano in tasca di qualcun altro. Vuoi mettere fuori la Multiservizi per fare entrare altre cooperative che ti fanno comodo? Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!